Con i fondi europei stiamo costruendo l'idea di futuro. Una visione che si avvera grazie al finanziamento dei grandi progetti destinati a trasformare il nostro territorio. Porteremo lavoro e una reale crescita nel rispetto dell'ambiente e della salute. Ora tutti i cittadini potranno controllare sul nostro sito avanzamento e tempi di realizzazione. La sfida al futuro è iniziata. Questa è la campagna che rinasce.